In piazza del prebiscito il Capodanno di Napoli è stato vissuto da migliaia di turisti che hanno letteralmente invaso la città fin dalle festività natalizie. Da ogni parte d'Italia e dal mondo, come testimone nelle voci raccolte pochi minuti prima dello scoccare della mezzanotte, i turisti sono lasciati affascinare delle meraviglie della metropoli ed hanno voluto brindare nella piazza più importante della città. Da un po' pure che non lo facevo, visto che per lavoro sono dovuto trasferire su, quindi sono contento di essere qui. Finalmente ritorno in piazza a Napoli a Capodanno. Quindi festeggiate qualche speranza per il 2016, che possiamo tornare più spesso a Napoli, visto che siamo lontani. Fortunatamente stasera siamo qui ed è bellissimo. Noi siamo ad Alessandria e quest'anno abbiamo deciso così, di cambiare un pochino e trovare un'alternativa. In Napoli ci sembrava la città giusta. Veniamo da Genova, abbiamo portato l'oro, noi ci eravamo venuti due o tre anni fa e adesso portiamo l'oro. Sono per la prima volta da soli, mio figlio sta a Roma e ha raggiunto gli amici e quindi stiamo qui insieme a tante altre persone. Napoli è una città straordinaria e anche i napoletani. È il primo Capodanno a Napoli ma favoloso. Da dove venite? Avellino, siamo qua vicini, no, stiamo vicini sì. Veniamo da Taranto. Siete in vacanza? Sì, in vacanza, come sempre. Per noi Napoli è la meta preferita. Grazie.